Ben trovati. Sono qui per mostrarvi un luogo meraviglioso. Un'autentica Camelot dell'era nucleare. Non creato da Dio Onnipotente, ma dall'ingegno umano. Diventa anche tu un eroe, acquistando la tua casa in un vault della Voltec. Perché se domani capitasse il peggio, aiuterai il mondo a plasmare un radioso futuro. La missione dei vault dovrebbe essere importante per tutti. Tornare in superficie fa rinascere la civiltà. Cos'è successo negli ultimi duecento anni? Porca troia. Tu sei una vera abitante del vault. Esatto. Pensavo che foste tutti belli che morti. Quello che stai facendo è una follia. Non è come il vault lì fuori. È immenso. Ho avuto una settimana difficile. Ogni persona che ho incontrato quassù ha provato a uccidermi. Io devo semplicemente prelevare i suoi organi. Dovresti tornare a casa. Tu vieni da un mondo fatto di regole, di leggi. Non dovresti essere qui da sola. Perché ti sei unito alla confraternità? Per ferire le persone che hanno ferito me. E molte ti daranno la caccia. Non è rimasto granché di pulito, Valti. Questa mi sembra una dose un po' scarsa per un corpo pieno di roba ben più pesante. Questa è la zona contaminata. Il caos assoluto. Ma c'è sempre qualcuno che tiene le fila. Che cosa sta succedendo qui? Tutti vogliono salvare il mondo, solo che... Nessuno è d'accordo sul come. Ecco cosa sei. Una piccola assassina. Ma c'è...